Ciao a tutti, io sono Miriam Villanno, vice campionessa italiana Freestyle Junior Serie A 2019 e campionessa italiana di due bastoni livello A 2019. Oggi sono qui per mostrarvi una serie di contatti con i due bastoni. Se a casa non avete un altro bastone potete benissimo utilizzare un ombrello o anche il manico di una scopa può andare bene. Detto questo, mi raccomando, rimanete a casa e continuate ad allenarvi. Ciao a tutti. 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 Ciao a tutti.